No, non vi preoccupate, non me ne andrò da YouTube. Vi invito a vedere tutto il video perché in questi pochissimi minuti vi andrò a spiegare tutto quello che sta succedendo, tutto quello che andrò a fare e tutto quello che non andrò a fare. Ciao ragazzi, sono Samuel Sciacca, molti di voi mi conoscono già, ho 23 anni e nella vita cosa faccio? Semplicemente creo videogiochi, non soltanto per passione ma anche per lavoro. Come sapete realizzo ogni giorno un video qui sul mio canale YouTube ormai da circa 3 anni, o almeno non so se sono 3 e mezzo, 4 o 2, non mi ricordo. E' veramente tanto il periodo che abbiamo iniziato a fare video qui su YouTube. E come sapete da moltissimo tempo, senza mancare mai all'appuntamento, ogni domenica andiamo in live proprio qui su YouTube. Però, proprio come avete visto negli scorsi video, ho intenzione di portare avanti un mio progetto piccolino, ovvero il gioco Poor Dog. Come avete visto e avete ascoltato anche in quel video, è importante capire che io questo videogioco lo voglio portare avanti ma senza troppo impegno. Perché come sapete la mia più grande priorità è quello di portare avanti i progetti per i miei clienti e soprattutto prendere nuovi clienti, lavorare sempre di più in quello che faccio, ovvero creazioni di adver game, giochi pubblicitari. Bene ragazzi, come avete detto dal titolo, sì, non ci saranno forse più live qui su YouTube o comunque momentaneamente, perché ci sposteremo proprio, come state vedendo dal colore dietro, sul social viola, link in descrizione. Proprio già questa sera inizieremo a fare una live alle 21. Il mio intento è quello di fare ogni giorno una live, dalle 21 fino alle 22, 23, dalle 22 alle 23, non lo so. Per questo vi dico di rimanere aggiornati sia all'interno del mio gruppo Telegram, link in descrizione, dove io posso fare questi comunicati, sia su Discord ma anche su Instagram, dove lì, grazie alle storie, posso dirvi quando vado in live. Per quelle persone che non possono vedere le live in diretta, non vi preoccupate perché verranno completamente ricaricate qui su YouTube e se vi state chiedendo se continuerò a fare video, assolutamente sì, i video non mancheranno su questo canale uno al giorno. Anzi, a dire il vero, con questa novità ci sarà più di un video, perché ne faremo uno da domenica adesso, quindi un video in più. Prima facevamo le live, ora un altro video in più. È molto importante però capire una cosa, prima di lasciarci con questo video e quindi vederci domani con un nuovo video e vederci in live questa sera su Twitch. Ragazzi, è importante capire che io sto prendendo quello che faccio online qui su YouTube e quello che farò online su Twitch, quindi facendo le live come una cosa secondaria. Quindi il mio focus principale sarà quello di creare videogiochi per i miei clienti, quindi faccio una grande premessa che potrebbe succedere che magari non sempre sia presente su Twitch. Il mio obiettivo è quello di fare tantissime live e forse faccio questa premessa soltanto per fare una premessa, perché magari non mollerò mai e anzi, molto probabilmente, continuerò a fare live anche ogni giorno. Però è importante capire che ci saranno sicuramente dei momenti in cui ho necessità di prendermi una sera per continuare a lavorare a quelli che sono i miei progetti, che purtroppo, se ve lo stai chiedendo, non posso portare live per motivo di privacy, perché comunque lavoriamo a progetti per i nostri clienti, ovviamente senza poterli mostrare, fino a quando il videogioco non è completo pubblico. Questo è molto, molto importante. Quindi ragazzi, i video continueranno a esserci qui sul mio canale YouTube. In descrizione vi lascio il link al mio canale Twitch, dove ci sarà la possibilità, appena possibile, di potersi anche abbonare al canale per ricevere dei privilegi, per avere inserito il vostro nome in tutti i videogiochi che farò, perché voglio riprendere anche così la sera ogni tanto a fare dei piccoli giochi da regalarvi, da mettere in vendita. La cosa più grande che vorrei fare quest'anno è pubblicare un gioco su console. Vediamo se ci riusciamo, perché l'obiettivo grande che voglio fare è anche quello di lavorare per molti progetti importanti. Quindi ragazzi, queste sono le grandi novità. Non voglio perdermi troppo in chiacchiere. Quello che volevo semplicemente dirvi è che sicuramente YouTube non lo abbandonerò mai, ma è molto più probabile che abbandono le altre cose, più che YouTube. Ma le abbandonerò solo nel momento in cui non vedo un grande riscontro. Il mio obiettivo però è quello di testare la piattaforma Twitch, che più volte nella mia testa ho pensato Vale la pena? Non vale la pena? Proviamo, buttiamoci. Se effettivamente risulta un fallimento o non è successo niente, ritorneremo qui e fare le live anche qui. Se invece va alla grande, allora ho fatto bene. Così voglio prendere proprio questo nuovo appuntamento serale. Quindi ci vediamo questa sera in live alle ore 21 per iniziare e vedremo poi successivamente se come orario va bene oppure no. Ci vediamo quindi domani con un nuovo video qui su YouTube, su Instagram, su Discord, dove volete, perché vi lascio tutti i link in descrizione. A domani, ciao! Ciao!